Chigi 44 estensibile è concepito per dare ossigeno a grandi volumi di acqua e a grandi superfici. Con un costo di circa 1200 euro di ossigeno, pari a 10.000 kg, senza utilizzare macchine ed energia, Chigi 44 può dare 2,5 mg per litro di ossigeno a 4 milioni di metri cubi di acqua con battimetriche di oltre 30 metri. Questo ne fa un sistema unico e insostituibile nella bonifica di siti che possono essere inquinati da scarichi non proprio perfettamente ossigenati o ossigenabili. Quindi il sistema di per sé stesso è estremamente semplice, estremamente rapido nella messa in esercizio ed estremamente funzionale per operazioni che sarebbero impossibili con altre tecnologie.